Tentata concussione, corruzione, peculato e tentata induzione in debita, istigazione alla corruzione. Sono questi capi d'accusa con cui andranno a processo l'ex sindaco di Foggia, Franco Landella, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, che domani sarà sottoposto. Il rinvio a giudizio è stato deciso dalla GUP del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga. Gli imputati sono coinvolti in un presunto giro di tangenti al Comune. Per loro il processo inizierà il prossimo 15 marzo. Nella stessa udienza hanno patteggiato la pena a un anno Davide Saurino e a un anno e tre mesi Marianna Tucci, mentre sono stati prosciolti gli ex consiglieri comunali di maggioranza Pasquale Rignanese, Lucio Ventura e Consalvo Di Pasqua. L'inchiesta, che si basa su intercettazioni e parziale ammissioni di alcuni indagati, ha portato il 30 aprile e il 22 maggio 2021 agli arresti di una mezza dozzina di persone tra carcere e domiciliari, compresi l'ex sindaco, l'ex presidente del Consiglio Comunale, alcuni consiglieri comunali e imprenditori. Al centro dell'indagine una serie di appalti per la pubblica illuminazione, progetti urbanistici, forniture e acquisti per regali a scopo privato di materiale vario, pagato con i fondi in dotazione all'ex presidente del Consiglio Comunale.